Gli audio racconti, seri, il giallo inglese, il mistero di Glasgow, di Emma Orgzi, letto da Dami. Si è spesso affermato, osservò l'uomo nell'angolo, che un omicidio, un omicidio impunito voglio dire, non può essere commesso da un solo individuo in una città indaffarata e che, d'altra parte, se l'omicidio è commesso da più persone, uno dei complici tradirà sicuramente l'altro. Ed è proprio questo il motivo per cui sono relativamente pochi i delitti insoluti. Devo dire che io sono perfettamente d'accordo con questa teoria. Erano trascorse alcune settimane da quando avevo fatto la conoscenza dell'uomo nell'angolo e dell'immancabile cordicella con cui giocarellava sempre quando districava i suoi misteri. E doveva trascorrere ancora qualche tempo, prima che mi narrasse la sua sinistra versione della tragedia di Percy Street, che ho già narrato a mia volta qualche tempo fa. Io mi ero imposta come regola fissa di dissentire ogni volta che facevo un'affermazione di questo tipo. Questo lo irritava invariabilmente. Si agitava in modo ridicolo, tirava fuori la sua cordicella e si lasciava di gran carriera dopo qualche commento sgarbato sulle giornaliste in genere e su di me in particolare in uno dei suoi racconti pazzeschi ed incredibili. Allora che dire dell'omicidio di Glasgow. Osservai con scetticismo. Ah, già. Cosa dire dell'omicidio di Glasgow? Vedo che lei è tra quelli che, come la polizia, credono che Yardley fosse complice di quel delitto e che, come loro, continua a sperare che prima o poi lui e quell'altro, quell'Apton, si incontreranno, divideranno il bottino e si getteranno nelle braccia aperte della polizia di Glasgow. Vuole forse dirmi che, secondo lei, Yardley non ha avuto nulla a che fare con quell'omicidio? Che importanza vuole che abbia cosa pensa di quello o di qualsiasi altro caso un umile direttante come me? Soggiunse, tormentando la cordicella tra le dita ossute nella sua ridicola eccitazione. Insomma, consideri per un momento quanto è semplice tutta la faccenda. C'è la signora Carmaico, la vedova di un ufficiale medico, giovane, avvenente e in condizioni finanziarie piuttosto agiate, che, per amore della compagnia, più che del guadagno effettivo, affitta una di quelle case eleganti in Woodbine Crescent, allo scopo di accogliere ospiti paganti. La sua casa è ottimamente arredata, le ho già detto che era piuttosto agiata, no? E non ha alcuna difficoltà a trovare pensionanti. Ben presto la casa si riempie. All'epoca di cui sto parlando aveva dieci o undici ospiti, per lo più uomini fuori tutto il giorno per lavoro, poi una coppia di sposi, la vedova di un ufficiale con la figlia e due giornalisti. Nei primi tempi aveva quattro domestiche. Poi un giorno i pensionanti di sesso maschile presero a lamentarsi che i loro stivaletti erano mal lucidati e i loro abiti spazzolati alla bella e meglio. Il più accanito nel protestare era il signor Hartley, un giovane che scriveva versi per alcune riviste. Si definiva un poeta e di conseguenza si concedeva varie abitudini eccentriche che alimentavano, in cucina come in salotto, i pettegolezzi al momento del caffè. Come ho già detto, era lui a lamentarsi con più energia riguardo ai suoi stivali e fu sempre lui, quando la signora Carmichael si dichiarò pronta a fare qualsiasi cosa, pur di accontentare i suoi pensionanti, a raccomandarle un uomo tranquillo e rispettabile, di nome Upton, affinché venisse un paio d'ore al giorno per pulire gli stivali, affilare i coltelli, pulire le finestre ed altro ancora. Insomma, si rendesse utile in casa. Credo sia proprio questa l'espressione usata. Il signor Hartley, così pare, conosceva Upton da qualche tempo. Questi aveva spesso fatto commissioni e consegnato messaggi per conto suo, e gli erano persino stati affidati preziosi manoscritti poetici da consegnare presso vari uffici di redazione. Fu a luglio dell'anno scorso, vero, che Glasgow, l'onesta, noiosa, indaffarata Glasgow, fu sconvolta fin nel midollo dal racconto sui giornali di uno dei delitti più orrendi e più vili mai commessi. Alle due di quel pomeriggio, la signora Carmichael, abitante in Woodbine Crescent, fu trovata morta nella sua stanza. La cassaforte era stata aperta e tutto il contenuto, che si presumeva comprendesse parecchi gioielli e denaro, era sparito. I giornali della sera aggiungevano che l'omicida era noto alla polizia e che non si nutrivano dubbi in merito al suo rapido arresto. Pare che fosse compito di Mary, una delle domestiche di Woodbine Crescent, portare una tazza di tè alla signora Carmichael ogni mattina alle sette. Non era previsto che la ragazza entrasse nella stanza, doveva solo bussare alla porta, aspettare che la padrona le rispondesse e lasciare il vassoio sul tappetino. Di solito la signora Carmichael ritirava immediatamente il vassoio e alle otto e mezza scendeva a fare colazione con i suoi pensionanti. Ma sembra che quella fatidica mattina Mary avesse premura. In seguito non poté affermare con certezza se aveva udito o meno la risposta della padrona quando aveva bussato alla sua porta. Per contro era sicurissima di aver portato il vassoio di sopra alle sette in punto. Quando tutti scesero a fare colazione un paio d'ore più tardi fu notato che la signora Carmichael non aveva ritirato il vassoio come al solito. Allora si fecero alcuni commenti preoccupati sul fatto che la simpatica padrona di casa non si sentiva bene. Poi l'argomento fu lasciato cadere. I domestici non sembravano veramente in pensiero per la signora Carmichael quella mattina. Mary che era in quella casa da due anni disse che già un'altra volta la signora era rimasta a letto fino a luna con una brutta emicrania. Tuttavia trascorsa l'ora di pranzo la signora Tyrrell una delle pensionanti più vecchie si allarmò. Salì al piano di sopra e bussò alla porta della signora Carmichael con forza e ripetutamente. Ma non ricevette alcuna risposta. La porta va di bene era chiusa a chiave o con il chiavistello e come era naturale pensare dall'interno. Dopo essersi consultata con gli altri pensionanti la signora Tyrrell sentendo che doveva essere accaduto qualcosa di molto grave si assunse infine la responsabilità di chiamare la polizia. Arrivò l'agente Ray. Pure lui bussò e chiamò. Scosse la porta e infine la batté. Non è compito mio farle una descrizione di quella stanza come si presentò allo sguardo inorridito della gente, dei domestici e dei pensionanti. Questo rientra più nelle sue competenze cannelle mie. Basti dire che l'infelice giaceva sul suo letto con la gola tagliata. La porta dall'interno era priva di chiave o di chiavistello. L'omicida, dopo aver compiuto il suo orrendo misfatto, doveva aver chiuso la vittima nella stanza portandosi probabilmente via alla chiave. Era appena stata fatta alla terribile scoperta quando Emma, la cuoca, quasi isterica per la paura e per l'orrore, corse dalla gente Ray e stringendogli selvaggiamente un braccio, bisbigliò. Upton, Upton, è stato lui, lo so. Povera la mia padrona. Le ha tagliato la gola con quel trinciacarne di stamattina. Gliel'ho visto in mano. Dov'è questo Upton? Domandò la gente con tono perentorio e poi aggiunse. Badate che nessuno lasci la casa. Chi ha visto quest'uomo? Ma né la gente né gli altri furono molto sorpresi di scoprire, dopo aver frugato tutta la casa, che quell'Upton era scomparso. In un primo momento, naturalmente, il caso sembrò la quinta essenza della semplicità. Non esisteva alcun dubbio, nell'opinione pubblica come in quella della polizia, che Upton fosse l'autore della crudele ed orribile tragedia. L'unica difficoltà, fino a quel momento, risiedeva nel fatto che non solo Upton aveva trovato modo di fuggire il giorno dell'omicidio, ma era pure riuscito a deludere le rigorose ricerche che la polizia aveva istituito in tutta la città. Ricerche, posso assicurarglielo, cui si era prontamente unito più di un investigatore e dilettante. L'inchiesta era stata rinviata di un paio di giorni, nella speranza di ritrovare Upton prima che avesse luogo, ma erano ormai trascorsi tre giorni e non si poteva più rimandarla. Certo il pubblico non si aspettava i sensazionali sviluppi che il caso cominciò improvvisamente a prendere. Le deposizioni mediche non rivelarono nulla di nuovo. Anzi, aggiunsero la solita quota di vaga indeterminatezza che così spesso contribuisce a disorientare la polizia. Il medico legale era stato chiamato dall'agente Ray subito dopo la scoperta dell'omicidio. Erano circa le due del pomeriggio. La morte risaliva a molte ore prima, dichiarò il dottor Daulish, forse nove o dieci ore, ma potevano essere pure undici o dodici. Poi fu chiamata al banco Emma la cuoca. La sua deposizione naturalmente era importantissima, perché aveva notato quell'upton e gli aveva parlato proprio la mattina del delitto. Lui, come al solito, era venuto a lavoro verso le sette meno un quarto, ma la cuoca si era subito accorta che sembrava molto strano ed eccitato. Cosa intende per strano? domandò il coroner. Beh, signore, era strano da parte sua cominciare di prima mattina a pulire i coltelli, visto che avevamo tutti i coltelli puliti che ci servivano per la colazione. Davvero? cominciò a pulire i coltelli. E poi cosa fece? continuò il coroner. Oh, continuava a far girare quel aggeggio per i coltelli. Così gli dissi che avrebbe consumato tutte le lame. Poi, di colpo, prese il trinciacarne e mi disse. Questo trinciacarne non ha un briciolo di filo. Dov'è l'acciaiolo? Allora io gli dico, nella credenza, naturalmente, in sala da pranzo. E lui scappa via col trinciacarne in mano. E quella è l'ultima volta che ho visto il trinciacarne e pure Apton. Conosceva Apton da molto tempo? domandò il coroner. No, signore. Era in casa solo da due giorni. Il signor Yardley gli aveva dato le referenze e la padrona lo assunse per pulire stivali e coltelli. Il suo orario era dalle sei e mezzo alle dieci, ma di solito si presentava verso le sette meno un quarto. Sembrava compiacente e volenteroso, ma non proprio all'altezza del suo lavoro. E non parlava molto, ma non l'avevo mai visto così strano, tranne quel mattino in cui la povera signora fu assassinata. E' questo il trinciacarne di cui parla? domandò il coroner, ordinando ad un agente di mostrare alla testimone un coltello che aveva in mano. Prorompendo in lacrime isteriche, Emma la cuoca riconobbe nel trinciacarne quello che aveva visto per l'ultima volta in mano ad Apton. Pare che l'agente investigativo McMardock avesse trovato il coltello, insieme alla chiave della camera da letto della signora Carmichael, sotto lo zerbino dell'ingresso. Sensazionale, vero? Nel migliore stile di un romanzo da quattro soldi. Sensazionale, ma non molto misterioso. Poi si dovette interrogare la signora Tyrrell, perché era stata lei la prima ad allarmarsi e ad assumersi anche l'incarico di chiamare la polizia. Per dispetto, o per puro caso, durante la sua testimonianza la signora Tyrrell insistette sul fatto che il signor Yardley era indirettamente responsabile della spaventosa tragedia, dal momento che era stato lui a portare quell'Apton in casa. Il coroner si fece più interessato. Pensò che avrebbe gradito fare qualche domanda al signor Yardley. L'aspetto del signor Yardley, quando fu chiamato a deporre, non era certo tale da affascinare, e fin dal principio la maggior parte dei presenti fu prevenuta nei suoi confronti. Era, come credo di avere già detto, quella rara Avis un poeta di successo. Scriveva raffinate composizioni per riviste settimanali. Di aspetto era un uomo piccolo, giallastro e magro, con un tronco inesistente e lunghe membra, e teneva il capo così piegato da un lato da sembrare quasi deforme. Ecco un'istantanea che gli ho scattato in seguito. Non è una bellezza, vero? Tuttavia, i suoi modi, le sue piccole mani ben fatte e la voce pacata, rivelavano che era un vero signore. Era ben noto a tutta la casa che il signor Yardley era molto eccentrico. Essendo un poeta, godeva impunemente di quel privilegio. Pare che la più eccentrica delle sue abitudini fosse quella di alzarsi ad un'ora impossibile del mattino, talvolta alle quattro, e di girovagare per le strade di Glasgow. Ho scritto i miei pezzi migliori, dichiarò in risposta all'osservazione sorpresa del coroner su questa sua strana consuetudine, appoggiato ad un lampione di Sushay Hall Street alle cinque del mattino. Passo i miei pomeriggi nelle varie biblioteche pubbliche, a leggere. Sono ospite di questa pensione solo da due o tre mesi, ma come i domestici le diranno, esco di casa molto tempo prima che loro si alzino. Non rientro mai per colazione o per pranzo, ma torno sempre per la cena. Vado a letto presto, naturalmente, perché ho bisogno di molte ore di sonno. Poi i signori Hardley fu sottoposto ad un interrogatorio serrato in merito alla sua conoscenza con quell'Hupton. L'ho incontrato per la prima volta circa un anno fa. Gironzolava per Buchanan Street, davanti agli uffici dell'Herald. Fu lui a rivolgermi la parola, raccontandomi una storia penosissima, ossia che era un ex linotipista, che aveva dovuto lasciare il lavoro perché la vista gli si stava indebolendo, e da settimane, anzi da mesi, tentava con tutte le sue forze di procurarsi qualche altro impiego, esaurendo nel frattempo i risparmi faticosamente messi da parte in molti anni di duro lavoro. Mi disse anche che era giunto al suo ultimo scellino due giorni prima, e si era ridotto a mendicare. Non denaro, ma un lavoro qualunque, qualcosa che gli permettesse di guadagnare onestamente qualche spicciolo. Ebbene, quell'uomo mi piacque abbastanza. Inoltre, siccome in quel momento preciso dovevo far recapitare un messaggio dall'altra parte della città, mandai Upton. Da allora l'ho visto quasi ogni giorno. Porta i miei manoscritti agli uffici di redazione, e fa varie commissioni per conto mio. L'ho raccomandato anche ad un paio di amici, e loro lo hanno sempre trovato serio ed onesto. In questo modo tirava avanti alla meno peggio, e quando la signora Carmichael pensò di assumere un uomo per fare vari lavori in casa, credette di fare una buona azione raccomandando le Upton. Allora non mi sognavo neppure quali conseguenze avrebbe avuto quella buona azione. Posso spiegarmi lo spaventoso delitto di quell'uomo solo pensando che gli abbia dato improvvisamente di volta il cervello. Tutto sembrava molto semplice e chiaro. I signori Hardley parlava tranquillamente, senza il minimo segno di timore o agitazione. Tanto il coroner quanto la giuria gli rivolsero domande insistenti riguardo ad Apto, ma il suo atteggiamento rimase sempre calmo e controllato. Forse, dopo un controinterrogatorio piuttosto severo da parte del coroner, il quale si vantava del proprio talento in tal senso, sentì che qualche dubbio poteva ancora annidarsi nella mente dei giurati e di conseguenza del pubblico. Comunque sia, chiese che fossero richiamati due o tre domestici affinché dichiarassero inequivocabilmente che lui era come al solito fuori casa quando erano scesi quella mattina. Una delle domestiche richiamata confermò in pieno quella dichiarazione. La stanza del signor Hardley disse era al pian terreno, accanto alla sala da pranzo. Lei vi era entrata poco dopo le sei e mezzo, aveva rifatto il letto e aveva cominciato a mettere in ordine. Rimaneva solo un altro testimone di una certa importanza da interrogare, un altro pensionante, il signor James Lucas, un giovane giornalista impiegato come redattore presso il Glasgow Banner. Il motivo principale per cui era stato convocato era che notoriamente occupava una posizione privilegiata tra gli ospiti della casa ed era stato più intimo della defunta di qualsiasi altro dei suoi pensionanti. Questo privilegio, pare, consistesse soprattutto nell'essere invitato dopo cena a prendere il caffè e forse un whisky a soda nel salotto privato della signora Carmichael. Inoltre, gli altri pensionanti condividevano la teoria che il signor James Lucas nutrisse certe segrete speranze nei riguardi della sua amabile padrona di casa e che, se non fosse stato perché lui era più giovane di diversi anni, lei avrebbe potuto incoraggiare quelle speranze. Il signor James Lucas era l'esatto contrario del signor Yardley, il poeta. Alto, biondo, atletico, il suo aspetto era tale da predisporre chiunque in suo favore. Sembrava profondamente sconvolto e raccontò con molto sentimento, palesemente sincero, il suo ultimo colloquio con la sventurata, la sera prima dell'omicidio. Rimasi circa un'ora con la signora Carmichael nel suo salotto e mi separai da lei verso le dieci. Poi mi recai al circolo, dove rimasi fino a molto tardi, in effetti fino all'ora di chiusura. In seguito feci i quattro passi e quando rientrai il mio orologio segnava le due e un quarto. Apri la porta di casa con la mia chiave. Nella parte esterna dell'ingresso c'era un buio pesto ed io stavo cercando a tastoni una candela quando udì il rumore di una porta che si apriva e si richiudeva, a uno dei piani superiori mi parve, e subito dopo qualcuno che scendeva le scale. Come ha visto pure lei, la parte esterna dell'ingresso è divisa da quella interna da una porta a vetri, che in quell'occasione era aperta. Nella parte interna dell'ingresso c'è un barlume di luce, che penetra fin lì dal lucernario di un pianerottolo. Ed in quel barlume vidi il signor Yardley scendere le scale, attraversare l'ingresso ed entrare nella sua stanza. Lui non mi vide ed io non parlai. Un silenzio straordinario, quasi come se ognuno trattenesse il respiro, era sceso su tutti i presenti in aula. Il coroner sedeva con il mento tra le mani, fissando con uno sguardo indagatore il testimone che aveva appena parlato. La giuria non aveva emesso un suono. E infine il coroner domandò. La giuria deve forse intendere, signor Lucas, che lei può giurare di aver visto il signor Yardley scendere le scale da uno dei piani superiori ed entrare nella propria stanza, che si trova al pian terreno, verso le due e un quarto del mattino? Certamente. Era più che sufficiente. Il signor Lucas fu congedato e venne richiamato il signor Yardley. Quando fu di nuovo in piedi davanti al coroner, la curiosa inclinazione del capo, il colorito olivastro e la lunghezza delle membra sembrarono più accentuati che mai. Forse era anche più pallido. Ma è certo che né le mani né la voce ebbero il minimo tremito. Interrogato dal coroner, rispose tranquillamente. È ovvio che il signor Lucas si sbaglia. Allora che dice lui, io ero a letto addormentato. C'erano stati eccitazione ed interesse trepidante quando il signor James Lucas aveva fatto la sua dichiarazione. Ma quell'eccitazione e quella trepidazione non furono nulla in confronto allo sgomento che scese su tutti i presenti quando il giallastro, semideforme, piccolo poeta smentì il precedente testimone in modo così completo e vigoroso. Lo stesso coroner non sapeva come conservare la propria dignità quando formulò ansante la seguente domanda. La giuria deve quindi intendere che alle due e un quarto di quella mattina lei era a letto addormentato ed è pronto a giurarlo? Certamente. Sembrò che il signor Yardley avesse ripetuto di proposito l'asserzione vigorosa e laconica dell'altro uomo. E' certo che la sua voce fu ferma il suo sguardo chiaro e il suo contegno calmo quanto quelli del signor Lucas. Il coroner e la giuria rimasero in silenzio e il signor Yardley si voltò verso un angolo dell'aula in cui si era ritirato il giovane Lucas. Gli sguardi dei due si incontrarono quasi come le spade di due duellanti prima dell'assalto finale. Nessuno dei due batte ciglio. Uno dei due aveva certamente detto una menzogna. Una menzogna terribile dal momento che poteva significare la perdita dell'onore o della vita per l'altra persona. Eppure nessuno dei due batte ciglio. Uno di loro mentiva, ricordi? E nella mente di tutti sorsero immediatamente due grandi ed avvincenti interrogativi. Quale dei due mentiva? E perché? Ero stata così assorta nell'ascolto di quella storia emozionante da non rendermi veramente conto fino a quel momento che l'uomo nell'angolo la raccontava come se avesse assistito di persona a quella drammatica inchiesta. E perché la scena mi è stata riferita da un testimone oculare? Rispose all'improvviso con quella fantastica abilità che sembrava avere di leggermi nel pensiero. Comunque deve essere stata molto drammatica e soprattutto terribilmente sconcertante. Due uomini giuravano l'uno contro l'altro entrambi di buona condizione sociale entrambi istruiti. Era impossibile per qualsiasi giuria accettare come del tutto persuasiva una delle due deposizioni. Né si poteva provare che uno dei due mentisse. Il signor Lucas poteva essere caduto in un equivoco. C'era una remota possibilità che al circolo avesse bevuto più whisky di quanto non avrebbe dovuto. Per contro il signor Hartley se mentiva mentiva perché aveva qualcosa da nascondere. Qualcosa di terribile riguardo a quel caso. naturalmente il dottor Dawlish fu riascoltato e con meravigliosa erudizione e meravigliosa precisione ripetei le sue vaghe dichiarazioni mediche. Quando esaminai il corpo con il mio collega il dottor Swanton la morte era evidentemente sopraggiunta da diverse ore. Personalmente ritengo più probabile che fossero dodici piuttosto che sette. Più di tanto non poteva dire. Dopotutto la scienza medica ha i suoi limiti. Poi fu riascoltata Emma la cuoca. C'era un punto importante che caso strano era stato trascurato fino a quel momento. Ossia la questione dello zerbino sotto il quale erano stati ritrovati il coltello che fra l'altro era macchiato di sangue e la chiave della camera da letto della signora Carmichael. Emma però fu in grado di dare una dichiarazione molto chiara ed inequivocabile su quel punto. Aveva fatto pulizia nell'ingresso e sbattuto lo zerbino alle sei e mezzo di quella mattina. A quell'ora la domestica stava rifacendo il letto del signor Hartley e lui era già uscito di casa da diverse ore. Sicuramente allora né la chiave né il coltello si trovavano sotto lo zerbino. L'esito delle testimonianze che forse per un breve momento era stato seppur in modo impercettibile avverso il signor Hartley tornò a far pendere la bilancia a sfavore di Upton. Naturalmente in pratica non c'era nulla che potesse compromettere seriamente il signor Hartley e a questo punto il coroner fece alla giuria un riepilogo del caso degno di un giudice dell'Alta Corte. Riassunse tutte le deposizioni queste erano schiaccianti irrefutabili portavano tutte all'incriminazione di Upton e la giuria non poteva che arrivare ad una sola conclusione nei suoi confronti. Poi c'erano le deposizioni mediche quelle favorivano Upton poco o nulla rammenti però che entrambi i medici si erano rifiutati di fare una dichiarazione definitiva riguardo all'ora del decesso. Non si poteva quindi dire che le loro deposizioni pesassero pro o contro qualcuno. Infine c'erano le strane testimonianze contraddittorie dei due ospiti della pensione il signor Lucas e il signor Hartley. Quella questione per il momento non poteva che rimanere tra quei due gentiluomini e la loro coscienza. Inoltre bisognava considerare il fatto che quell'Upton evidentemente l'effettivo omicida era stato introdotto in quella casa proprio dal signor Hartley. Competeva alla giuria stabilire se questo doveva pesare o no sulle sue decisioni. Questa era la somma delle testimonianze. La giuria si consultò piuttosto brevemente e dopo il primo giurato pronunciò la sentenza di omicidio premeditato a carico di Upton. Non si fece parola del signor Hartley. Cosa si sarebbe potuto dire? Non c'erano prove concrete contro di lui. Certo non sufficienti ad infamare per sempre il suo nome con una macchia così orrenda. In un caso come quello rammenti. I giurati sanno sempre perfettamente che la polizia non perderà di vista neppure per un momento un uomo sfuggito per miracolo ad un mandato d'arresto quale in effetti era Hartley. Confidando nella certezza che Upton sarebbe stato ben presto acciuffato non c'era da dubitare neppure per un solo istante che avrebbe tradito il suo complice se ne avesse avuto uno. I criminali in una simile situazione lo fanno quasi sempre. nel frattempo a sua insaputa ogni passo di Hartley sarebbe stato seguito anche se avesse tentato di lasciare il paese. Quanto ad Upton l'uomo nell'angolo si interruppe mi scrutava attraverso i grandi occhiali con la montatura adosso osservando con ironico divertimento il mio interesse trepidante per la sua narrazione. Ricordavo benissimo l'omicidio di Glasgow ricordavo le chiacchiere le discussioni le liti che ci furono in ogni casa. Yardley era un complice era stato lui ad uccidere la signora Carmichael alle due del mattino aveva mentito in tal caso perché oppure era stato il signor Lucas a mentire molti ricordo sostenevano quest'ultima teoria soprattutto quando qualche giorno dopo fu omologato il testamento della signora Carmichael e si scoprì che lei gli aveva lasciato tutto il suo denaro. Per un po' l'opinione pubblica divenne nettamente ostile certi pensavano che se fosse stato innocente si sarebbe rifiutato di toccare un soldo del denaro di lei altri più pratici non capivano perché mai lei avrebbe dovuto farlo. Era un giovane giornalista che lottava per farsi strada. La donna evidentemente era stata innamorata di lui e intendeva sposarlo. Aveva il pieno diritto non avendo figli né parenti prossimi di lasciare il suo denaro a chi preferiva e sarebbe stata davvero dura per lui se per colpa di una canaglia avesse dovuto perdere ad un sol colpo moglie e fortuna. Poi naturalmente c'era Apton 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 che la polizia non riusciva a scovare che doveva essere colpevole visto che si nascondeva a quel modo che non avrebbe mai recitato quell'atroce commedia con il trinciacarne perché mai avrebbe dovuto attirare volontariamente l'attenzione su di sé e lasciare di fatto il suo biglietto da visita sulla scena dell'omicidio perché 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 già perché mi giunse come una bizzarra eco stridente il commento del mio eccentrico vis-à-vis vedo che malgrado i miei sforzi coscienziosi per insegnarle a ragionare su un caso in modo logico e chiaro lei parte sempre da un'idea preconcetta che naturalmente la conduce fuoristrada perché è preconcetta proprio come qualsiasi altro investigatore pasticcione in queste isole ottenebrate preconcetta replica indignata qui non ci sono preconcetti che il signore Hardley fosse o no a conoscenza dell'omicidio progettato che fosse complice del delitto o lo fosse il signor Lucas una cosa è chiarissima e cioè che è Upton il colpevole del fatto e cosa glielo fa pensare domandò garbato l'uomo nell'angolo è ovvio che se fosse stato innocente non avrebbe recitato quell'orrenda tragica commedia con il trinciante soprattutto non si sarebbe mai incriminato da sé scomparendo nel nulla proprio quando stava per essere scoperto il cadavere della signora Carmichael non le è mai balenato nella mente suppongo replicò l'uomo nell'angolo con tranquillo sarcasmo quanto assolutamente incriminanti siano state le azioni di Upton quella particolare mattina certo che erano assolutamente incriminanti è per l'appunto la mia tesi e quindi non ha mai studiato il mio metodo di ragionamento abbastanza da capire che quando un malfattore un abile malfattore va di bene sembra incriminarsi da sé nel modo più scervellato è il momento di guardarsi dalle trappole astute che sta tendendo alla polizia certo è il motivo per cui io come pure altri nel mondo del giornalismo ritengo che Upton abbia recitato una commedia allo scopo di salvare il suo complice rimane solo da stabilire chi era quel complice doveva essere un uomo singolarmente altruista e pronto a sacrificio in tal caso in che senso in quello della sua affermazione Upton accumulò contro di sé ogni possibile prova circostanziale allo scopo di proteggere il suo complice prima recita la parte di un uomo in preda ad un'eccitazione strana ed innaturale poi proclama ad alta voce il fatto che sta uscendo dalla cucina col trinciante in mano e terzo deposita quello stesso coltello macchiato di sangue assieme alla chiave della stanza della signora Carmichael sotto lo zerbino pochi istanti prima di lasciare la casa deve ammettere che quell'uomo deve essere stato singolarmente altruista dal momento che se mai verrà catturato nulla lo salverà dalla forca mentre il suo complice a meno che non si trovino molte altre prove potrà rimanere in libertà sì potrebbe anche essere dissi pensosa naturalmente questo faceva parte del piano prestabilito molti ritenevano che Upton e Yardley fossero grandi amici avrebbero potuto essere fratelli chissà già chissà ripete sdegnoso l'uomo nell'angolo mentre via via che si faceva più eccitato le sue dita lunghe e magre intrecciavano sulla corticella nodi strani e complicati per poi scioglierli febbrilmente i fratelli sono soliti adorarsi a tal punto da essere felicissimi di farsi impiccare l'uno al posto dell'altro non si è mai domandata perché la polizia non abbia mai scovato Upton come ha fatto a fuggire dove si trova lo ha forse inghiottito la terra sicuramente un animale come quello che si tradisce senza rimedio il giorno stesso in cui commette un omicidio non può avere abbastanza cervello per continuare a nascondersi dalla polizia un uomo che davanti ad un testimone sceglie l'arma con cui intende uccidere la sua vittima e che poi deliberatamente la lascia a sporca di sangue proprio dove è certo che verrà subito trovata insomma si figuri se un simile imbecille riuscirebbe a sottrarsi alla polizia non per un giorno per una settimana o per un mese ma per quasi due anni che senso ha un uomo come quello che lei il pubblico e la polizia avete bollato come un imbecille sarebbe caduto in trappola entro 24 ore mentre l'uomo che progettò e compì l'omicidio era un genio ancora prima che una canaglia è appunto quello che ho detto lo ha fatto per proteggere il suo complice oh il suo complice già il complice che amava e che gli era caro sopra ogni cosa forse suo fratello dice lei no qualcuno che amava diecimila volte di più di qualsiasi fratello allora lei vuole dire se stesso naturalmente non c'è mai arrivata signore mio il giovane poeta o canaglia faccia lei entra in una pensione e si rende conto che la padrona è ricca studia le regole della casa le abitudini della padrona scopre tutto il suo denaro la sua cassaforte e i suoi gioielli e infine prepara il proprio piano oh un piano meravigliosamente architettato quell'uomo avrebbe dovuto essere un grande diplomatico un grande generale ma decise di essere solo un grande mascalzone il travestimento che scelse era molto facile da portare ricordi bene una cosa un imbecille che vuole nascondere la propria identità lo fa dopo aver commesso un delitto quando ormai è ricercato dalla polizia è quindi costretto per il resto della sua vita a mantenere sempre il travestimento che ha scelto in ogni ora ogni minuto del giorno a modificare la voce il modo di camminare il contegno all'opposto come procede un uomo dell'abilità di Yardley sceglie il suo travestimento e lo assume prima di commettere il delitto quindi è solo questione di qualche giorno e quando tutto è finito quell'individuo il noto criminale scompare e va di bene si dà un grande affare affinché il criminale sia ben noto in questo caso Upton viene introdotto nella casa diciamo pure che si presenta una sera raccomandato dal signor Yardley la signora Carmichael lo riceve nell'ingresso per qualche minuto definisce la questione dell'orario e della paga e in seguito lui si presenta ogni mattina con la faccia sporca i capelli arruffati e barba e baffi finti il solito tipo di uomo molto malmesso che fa lavori saltuari qua e là il suo posto è in cucina ai piani superiori non si fa mai vedere mentre la cuoca e la gente che frequenta la cucina non vedono mai i signori Yardley dopo un po' qualcosa magari una disattenzione potrebbe rivelare l'imbroglio ma l'inganno si protrae solo per due giorni poi viene commesso l'omicidio e Upton scompare nel frattempo il signor Yardley persevera nelle sue abitudini eccentriche esce di casa ad ore impossibili è assente mentre Upton recita la commedia col trinciante sa che non ci saranno mai prove contro di lui come Yardley si è assicurato che tutte le circostanze siano contro Upton tutte irrimediabili complete assolute incriminanti poi lascia che la polizia dia la caccia ad Upton lui per un po' non si fa notare dopo qualche tempo andrà all'estero oserei dire che lo ha già fatto un gioielliere di Vienna o forse di San Pietroburgo comprerà da lui qualche pietra sciolta le pietre tolte dalle spille e dagli anelli della signora Carmaico l'oro lo fonderà per venderlo le banconote potrà cambiarle in qualsiasi stazione termale straniera senza che nessuno gli chieda nulla le banconote inglesi sono molto richieste all'estero e senza tante domande infine tornerà a Glasgow dai suoi amici e riprenderà a scrivere raffinate poesie per le riviste con la sola differenza che le scriverà ad ore più ragionevoli intanto la polizia non smetterà di cercare quel tale Upton un piano astuto vero guardi la foto di Hartley glielo data poco fa ha un'aria intelligente non trova per impersonare Upton portava la barba e si tingeva i capelli di un nero corvino deve essere stato un grosso disturbo ogni mattina non crede Gli audio racconti seri il giallo inglese il mistero di Glasgow di Emma Orgzi letto da Dani grazie a tutti Grazie a tutti.